Trek, cerca di essere realista. Di sicuro il Regno del Fuoco è il migliore. La mia stanza è in un vulcano. Inoltre noi siamo i migliori in qualsiasi cosa. Qualsiasi. Bene, vogliamo entrare o vogliamo entrare? Beh... Forte. È una mia impressione o è più grande all'interno dell'esterno? Non mi fido. Zod! Voi chi siete? Perché siete venuti? Torre, buttali fuori da qui! Torre, ti ho detto fuori, non dentro. Ma quelli sono... i bracciali dei guardiani! Ragazzi, guardate! I bracciali degli elementi! Perché non sapete volare? Cosa? Dimentico sempre che non avete il potere della luce. Ok. Come possiamo fare? Sei sicura? La torre dice che da questo momento potete usare le Hyper Beast. Le Hyper Beast? Non so cosa siano, ma ne ipervoglio subito una. Facciamo una gara. L'ultimo che arriva è un lumacone! Ai! Per cavalcarle dovete prima stabilire un legame con loro. Le Hyper Beast sono qui per aiutarci nelle nostre missioni, giusto? Quindi saltiamo su tutti insieme e loro ci aiuteranno, giusto? Giusto! Esatto! Forse. Uno, due e tre! Andiamo! Sì! Vado ad affrontarli! Veniamo anche noi! No, è una cosa che devo fare da solo. Inchinatevi al vostro futuro re e obbedite ai suoi ordini! Reef, tu sei pazzo. Sarà stato il caldo? Ehi, Skeletor! Puoi vedere che cosa fa un vero eroe? No, grazie. Sono un po' impegnato in questo momento. Colpite! Glowage! Gormiti irraggiungibili Chi mi fermerà? The land is back The legend is back Dormiti! Dormiti! Dormiti частui! Govi! Come va in dove